Bentornati a SOS Rezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, com'è? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Siamo qui, la macchina è molto bene. La macchina capita, a volte che si rimanga anche quasi a piedi, sono macchine e noi siamo uomini. Poi sono sempre più tecnologiche, quindi rimaniamo sempre più a piedi. Eh sì, perché magari prendono una cavolata e manda tutto, stoppa tutto. Gli elaboratori elettronici, centri elettronici per vedere dove è il danno. Infatti quando si accende le spie non sai mai se è una cosa seria o no. Bravo, esatto. Siamo a Solorentino, perché? Perché è una zona veramente degradata, completamente abbandonata a se stessa. Come vedi iniziamo da qui il percorso, adesso faremo un percorso dove si vede qui. Sicuramente c'è un tubo che sta cedendo e fra un poco sicuramente andrà giù. E quindi se qui non si interviene dovranno chiudere la strada perché in effetti sta proprio crollando. Infatti si passa di là. Sta crollando. L'anno ci hanno fatto dei segni intorno? Anche qui vedi. Per evidenziarlo. Io e me qui, anche qui siamo per le buche, come al solito, non vengono riparate. Poi qui c'è la sede del quartiere di Porta del Foro che purtroppo per me, visto che sono poi del quartiere, è in questa situazione veramente drammatica. perché è l'unico quartiere che a questo punto qui non ha una sede decente in cui si possa svolgere un'attività. Perché? Perché come vedi è piena e è contornato di cantieri adesso. Di cantieri che poi vedremo camminando. Il primo fra tutti è la palestra che doveva essere completamente rifatta. e quindi quell'area andrà chiusa e quindi i pochi parcheggi andranno eliminati. Poi vedi qui le piante sono state tagliate ma sono state lasciate fuori i mozzigoni. Qui si va in terra e quindi sicuramente si dovrà intervenire affinché si possa eliminare questo degrado e queste pericolosità perché in effetti un bambino camminando non se ne accorge, una donna con la carrossina non se ne accorge e si va immediatamente in terra. Poi qui stanno costruendo un palazzo. Tutto insieme? Sì. Prima c'era una fabbrica, una vecchia fabbrica, adesso stanno costruendo un palazzo. Voglio vedere cosa succederà quando ci abiturano le famiglie, che qui si venneranno fatte le feste. Sicuramente il quartiere avrà enormi problemi. Enormi problemi perché? Perché? Perché tu sa benissimo che specialmente nel periodo della giostra vengono fatte le serate del quartiere, le scene propiziatorie e altre scene durante la settimana per finanziarsi e quindi di conseguenza quelli che staranno lì qualche problema lo daranno sicuramente, purtroppo per loro. Poi andando avanti si vede il degrado completo di quest'area, mentre il quartiere internamente ha pensato a ristrutturare un po' il tutto, esternamente tu vedi in che condizioni di fatiscienza è. Veramente completamente abbandonato a se stesso. Questa che cosa c'è dentro? Questa è la vecchia palestrina che è stata data al quartiere in gestione, dove ci vengono fatti attività ricreativa e soprattutto vengono tornati di costumi, soprattutto durante la giosta per i cambi. di qua c'è la sede del quartiere e poi qua senta veramente nel Bronx, è completamente abbandonata a se stesso. A parte la viabilità come tu vedi, e penso qui è una palestra quindi frequentata da giovani. Eh, perché vai chiusa. Eh, ora la chiudono perché l'avamo ristrutturato. Vai chiusa. Avevamo un comportamento ristrutturale. Di qua c'è un altro quantità. Qui vedo delle diverse cose abbandonate. A qualche punto i condizioni siamo, questa non so chi l'abbia abbandonata. C'è anche un canestro, un portacanestro. Esatto, c'è addirittura, se non sbaglio, qua anche dell'amianto. Sì, quelle sono la mia che l'amianto, anche là. Sì, questo è l'amianto. L'amianto. Addirittura qua c'è proprio spezzato. E vedi, proprio che si sta sfaldando tutto, quindi si può diffondere nell'area e creare le problematiche che poi si creano. Di qua abbiamo un altro tombino completamente scoperto, a parte un muro. Travi di legno. Travi di legno per coprire un mega tombino. Basta alzarlo, logicamente, si va di sotto. E poi l'altra palestra, questa della SBA, la vecchia palestra della SBA, questa è ancora funzionante. Sì, ma come dire, cosa c'è lassù? Ci sono le tue amiche serine che se non l'hanno tolta. E vabbè, qui vedi, completamente abbandonato, tutta catramata ha lasciato a se stessa, quindi un punto anche abbastanza importante. La gente comunque ci viene ancora. Esatto, che poi per di più adesso qui stanno facendo la caserma e la guardia di finanza, sicuramente qui ci vengono gli alloggi e qui poi verrà l'accesso, cioè c'è un accesso, quindi di conseguenza anche l'utilizzo delle piazzette da parte del quartiere diventerà un problema perché passeranno continuamente. Cioè, in uno spazio molto ristretto si stanno creando diverse attività. Esatto. Poi qui c'è il cantiere. Questo è il cantiere transennato. Il cantiere transennato e così via. Signora, che ci dici di questa zona? Molto bella. Molto degradata qui. Molto degradata, sì. È veramente... Tanto degradata. Stavo cantando, è veramente abbandonata se stessa. No, ma poi è abbandonata se stessa e nessuno ricorre a fare delle perlustrazioni, di qualcosa. Lì è tutto pieno di siringhe, cioè veramente è disgustante. Oltretutto fanno la festa del Saracino con delle cose veramente atroci perché là dopo vanno tutti ubriachi. Abbiamo trovato pantaloni, abbiamo trovato mutande, abbiamo trovato di tutto e di più. Le mutande erano da donna? Ma non lo so, guardia. Non lo so, c'erano pantaloni, ma erano ubriachi fradici, cioè non è possibile. Veramente, Arezzo è una città bellissima, però ci sono dei rioni che vengono curati. Degli altri non gliene può fregare di meno. E se ora viene anche la guardia di finanza, io spero che stiano molto attenti anche nel pulire un pochino più di amore. Sì, sì, ma non solo da pulire, ma anche fare opere di manutenzione, tombini aperti. Tombini tutti aperti di là. Amianto, tutto aperto, abbandonato, canta catamata, abbandonata. Tutto, tutto di più. Fanno la piena di buche, proprio completamente abbandonata. Se lei va là si sente male ancora. Ora scendiamo. Ecco, le buche, sono venute due persone a vedere le buche là, perché dice qui vanno coperte. L'ho detto, c'è tanta gente che c'è caduta. Finché va bene, va bene. Quando dopo non va più bene, che ti fanno, cioè che vanno a denunciarti, perché là l'hanno riempito tutto di immondizia, di bottiglie, di cose, e sono tutte buche aperte. Cioè, ci rimani molto male. Oltre di tutto è anche la mia zona, che io ci sono nata qua. Grazie, grazie. Grazie, signora. Speriamo che risolva la... Oh Dio, speriamo. Speriamo. Bene, direi, però Beppe, di questo aspetto delle sighing, ce ne occupiamo domani. Ok, va bene. Perché bisogna approfondire meglio. Va bene. Ci vediamo domani. Ok.